Uomini e donne, registrazione 22 aprile, potrebbe lasciare il trono senza scelta. L'appuntamento con uomini e donne prosegue su canale 5, questo sabato 22 aprile. È in programma una nuova registrazione del talk show pomeridiano ideato e condotto da Maria De Filippi. Le sorprese non mancheranno e, al centro dell'attenzione, ci saranno le vicende dell'etronista Nicole. La quale si ritroverà a dover prendere in mano le redini del suo percorso e non si esclude che dopo le ultime batoste, potrebbe addirittura rinunciare alla scelta finale. Nel dettaglio, i protagonisti del trono classico e del trono over, questa settimana si ritroveranno in studio nel corso del pomeriggio di sabato 22 aprile, quando è prevista la nuova registrazione di Uomini e Donne. Le riprese di questa settimana si preannunciano già attesissime dai fan, dato che ci sarà spazio in primis per le sorti della bella Nicole. L'etronista continua ad essere al centro delle dinamiche, complice un percorso che ha alimentato non pochi dubbi e sospetti. Gianni Sperti, ad esempio, non si è mai fatto problemi nel dire che secondo lui l'etronista si sarebbe accordata con Andrea e quindi starebbe portando avanti solo una farsa ai danni del programma e del pubblico. Nelle ultime puntate, inoltre, Nicole ha messo in discussione il percorso di Carlo mentre Andrea ha iniziato a mostrare segnali legati ad una perdita di pazienza nei confronti della tronista. E così, nel corso della prossima registrazione di Uomini e Donne del 22 aprile. Ecco che la tronista potrebbe anche ritrovarsi nella posizione di abbandonare il programma e rinunciare alla scelta finale. In attesa di scoprire tutti i dettagli sulla prossima registrazione del seguitissimo talk show di questa settimana, va segnalato che in vista della nuova settimana di programmazione del talk show Mediaset, ci saranno delle variazioni di palinsesto importanti. L'appuntamento con il programma dei sentimenti di Maria De Filippi risulta sospeso dal palinsesto di Canale 5 del 24 e 25 aprile per il Ponte della Liberazione, tenendo conto che la maggior parte degli spettatori potrebbe non essere davanti al televisore. Mediaset ha scelto di sospendere la messa in onda del talk show. Di conseguenza, al posto di Uomini e Donne, ci sarà spazio per la messa in onda di due film sentimentali che occuperanno la fascia oraria che va dalle 14.10 alle 16.10 circa. La trasmissione di Uomini e Donne, invece, riprenderà regolarmente dal 26 aprile in poi con le nuove puntate che saranno registrate nel corso del pomeriggio di sabato.